La tua collezione quanto vale? La mia collezione personale, siamo sui 110-112 pezzi Alcuni di voi potrebbero considerare Superflow un video su investimenti in quelle che sono a tutti gli effetti delle semplici action figure dalla testa gigante Ma la verità è che molti di questi simpatici oggetti sono aumentati costantemente di valore nel corso del tempo Alcuni di essi sono partiti da un prezzo di listino di 10 o 15 euro fino a raggiungere numeri a 4 cifre Da completo ignorante in materia sono venuto al Romics, storica fiera romana dove si radunano collezionisti di tutta Italia Per capire come si può guadagnare comprando e rivendendo Funko Pop Quali sono quelli su cui prestare maggiore attenzione E in generale mettere in luce un mercato che, a mio parere, merita almeno che gli venga fatto un video a riguardo Tra l'altro questo video fa parte di una playlist dove vado a trattare i mercati di nicchia Infatti già avevo caricato dei video sulle carte collezionabili che vi consiglio di andare a vedere Perché per esempio il nostro investimento in pochi mesi ha fatto un per 4 del valore Carissimi investitori vi invito a lasciare un like se vi piace l'idea di fare questo genere di video E iscrivervi al canale lasciando la campanellina se volete supportarmi Inoltre scrivetemi nei commenti se ci sono altri mercati di nicchia su cui vorreste un video Ma ora vediamo quali informazioni riusciamo a estrapolare da chi con i Funko Pop ci ha fatto un vero e proprio business Ti vuoi presentare? Allora ciao ragazzi sono Francesco Siamo allo stand di Solo Collectibles Arromics Uno stand monomarca di Funko Pop Ciao Sono Daniele Mi occupo sostanzialmente di fare il fumetto in Italia E trattiamo principalmente Funko Pop Andiamo sul sicuro Sul sicuro Monomarca Noi vendiamo solo questo Perfetto Ti volevo chiedere se ha senso parlare di una vera e propria economia sommersa dei Funko Pop Se c'è effettivamente un mercato dietro Allora il mercato dietro c'è Calcola che la Funko nasce mi pare nel 97 o 98 Però chiaramente nessuno ne sapeva niente Prima sono esplosi ti direi negli ultimi 6-7 anni Infatti una valanga di Funko Pop che ci vengono richiesti sono prima che andassero di moda Quindi roba del 2010-2012 Il mercato c'è ma è molto particolare Perché è pieno di roba che la Funko straproduce e poi non vende Mentre la roba più venduta viene prodotta o nelle stesse quantità di quella non venduta O addirittura di meno perché poi non si riesce a trovare Mi vengono tanti esempi di alcuni Funko di roba popolare tipo Naruto, One Piece Che ci sono molti pezzi richiestissimi che la Funko non manda in distribuzione O ne ha mandati pochissimi in distribuzione Quindi il mercato c'è ma è veramente particolare a seconda della categoria e del prodotto in sé Quindi One Piece, Naruto, come può essere Signore Indianelli o Harry Potter Ovviamente sono quelli più richiesti Sì, questi gli ho detto proprio quelli che vanno per la maggiore ecco Sì, c'è un mercato vasto dietro Funko Pop a partire da Funko Regulo a Funko Voltied Che nel tempo acquisiscono un prezzo Quindi a seconda del pezzo di cui parliamo può aumentare o può scendere Come qualunque prodotto del resto Ok, potrebbe avere senso secondo te investire nei Funko Pop? Oggi sì, ma come prima sostanzialmente ci sono alcuni pezzi Che nel tempo appunto possono aumentare di prezzo Mentre altri no Che sono dei semplici pezzi che vengono ristampati per decine di migliaia di volte Ti direi di sì Proprio alla base sì Perché come qualunque cosa che appunto va sold out La rivendo a un prezzo più alto Però tante volte capita che ci sono pezzi Anche quelli che vengono chiamati bollinati Quindi delle fiere, i comicon Che sono pezzi che uno prende magari a 30-40 euro quando escono Li prende per rivenderli e poi scendono Per esempio è successo proprio Ci sono dei copp di Demon Slayer Non hanno fatto il botto che ci si aspettava E chi li ha presi ha privato la sola Adesso valgono di meno di... Valgono quello che stanno al sito massimo Ma pure qualche euro in meno Ok Mentre mi viene in mente le barche di One Piece Che chi segue i Funko le conosce Hanno tutto il prezzo di listino a 40 euro Ma adesso quella che prende a di meno è la Mary a 60-65 Le barche di One Piece sono un esempio di investimento Un investimento può essere anche un pop che prendi Tieni in perfette condizioni e lo tieni per 10 anni Vedi che ne so Il Ghostface di Scream o altri pezzi molto vecchi dell'horror Quali sono i Funko dove prestare maggiore attenzione? Quelli che potrebbero valutarsi di più nel tempo? Allora ci sono dei Funko limitati Vi faccio esempio gli NFT In quel caso lì ne vengono stampati un migliaio per modello In quel caso lì ecco Sai che ce ne sono migliaia al mondo Trovarne integri magari ce ne saranno Boh 600 integri O magari che ne so Vi faccio esempio parlare delle Chase Di questa differenza sostanziale è che un sesto di queste viene prodotta come Chase E il che cos'è una Chase ce l'ha spiegato molto bene questo ragazzo del covo del nerd Di cui purtroppo il microfono bluetooth non mi ha registrato l'audio Ma da quello che ci ha raccontato le Chase vengono date solamente quando si acquista un intero box di un determinato Funko Pop Per intenderci se prendiamo un box pieno di Sharks di One Piece Tipo 1 su 6 sarà una Chase Il che vuol dire che avrà una piccola caratteristica che lo differisce dagli altri Che insieme alla sua maggiore rarità contribuisce ad aumentarne il valore e la rivendibilità in futuro Quindi in generale se di queste vengono stampati 6.000 Un sesto sarà una Chase Da tenere sott'occhio gli horror anche se di nicchia vanno sempre tantissimo Ok interessante E gli animation però gli animation ne fanno talmente tanti e talmente tanta monnezza Vedi lo dico onestamente ma ero accademia è monnezza a parte 4 o 5 pop Devi avere l'occhio lungo per animation Mentre sull'horror sai il film famoso il pop famoso è più facile a individuare Adesso alcuni personaggi famosi anche degli animation poi non vanno come pop Come hanno detto sia Francesco che gli altri esperti quindi i Funko Pop da tenere più sott'occhio Sono sempre delle Chase o Limited Edition Ancora meglio se ispirati a film horror, cult del cinema o videogiochi Infatti girando per la fiera ho potuto constatare che queste erano le categorie in assoluto con i prezzi più alti Oppure volendo si può anche azzardare con quelli ispirati a prodotti di animazione Purché si conosca bene l'opera di riferimento Infatti la prossima domanda è per capire da cosa è meglio stare lontani Come si giudica la monnezza? La monnezza non è che si giudica è che la Funko fa i pop senza criterio Quindi esce un film bam diritti pop Però appunto se vogliamo avvicinarci all'inquadratura noi abbiamo gli Eternals Sono il classico esempio di monnezza ragazzi Eccoli qua Il film è stato una sciofeca terribile Sono tre ore che sembrano 6 di Eternals E chiaramente se il film va una merda i pop come vanno? Va una merda Esatto Ma lo stesso roba tipo Jurassic World La monnezza si giudica dipendentemente dal prodotto insieme alla realtà Che il film è una merda e il pop non vende Ok I soliti ripetiamo One Piece, gli horror Ma anche la Marvel però dipende dal film bello Si si L'Ironman chiaramente lo vogliono tutti C'è Tony Stark che schiocca le dita lo vogliono tutti Thor con lo Stormbreaker lo vogliono tutti Quindi ecco se tutto un dipende Ok Perché anche nella collana appunto Animation che è quella che va forte Poi è piena di roba che non va Basta intendersene un minimo di cultura pop Si Se io sono un fan di Meiro Accademia Lo so quali sono i pop che possono andare E quali non possono andare Certo Poi dato che Daniele prima ha fatto riferimento agli NFT Gli ho voluto chiedere Funko pop come azienda Fanno qualcosa anche nell'ambito NFT? Si attualmente si Puoi aprire dal portale Funko pop delle NFT C'è un sito apposito Delle bustine Ti possono uscire Sono sbagliati in NFT Tra cui ti possono uscire Quelli grail Che ti garantiscono una Funko pop fisica Limitata da alcuni pezzi Ok quindi è NFT E ulteriormente è NFT Hai sia l'NFT Quello digitale Che il prodotto fisico Nel caso in cui ti esce Quello esatto è NFT Si Qual è in genere il prezzo di listino Dei Funko pop da negozio? I Funko pop possono partire da prezzi 17,90 18,90 Fino a Funko che di standard Posso arrivare a 44,90 Poi diventi sostanzialmente dal modello Ti posso chiedere Qual è il pezzo più costoso che hai? I pezzi più costosi che abbiamo in negozio Sicuramente sono Il Ghostface di Scream Che ti ho nominato anche prima Ok Che è un pezzo che sta ai 399 euro Diciamo Oppure la Dorothy del Mago di Oz Che pure quella Stiamo sui 3,39 Se non ricordo male O un altro bel pezzo Molto costoso È Molly Weasley Con la casa di Harry Potter Che pure là Stiamo sui 300 euro Un C3PO del Comic Con Dal valore di 300-400 euro Un Loch Ness Glow in the Dark Dal valore di 400 circa Ma anche Pop di Breaking Bad Sai che stavo su un centinaio Comunque hanno la loro collezione di smagli E in origine questi stavano sui 17 euro? Avevano un prezzo regolo Sì Oddio all'epoca forse anche 14 Ah bene Senza l'inflazione Negli ultimi anni Invece se posso chiederti Quanto vale più o meno la tua collezione? Troppo Troppo La mia collezione personale Siamo sui 110-112 pezzi Guarda Se vuoi fare un conto banale 10 euro a pezzo Siamo sopra i 1.100 euro Chiaramente ho anche pezzi di fiere Un po' più particolari Per esempio le barche di compissione O due Ti direi che siamo sui 1.600 La mia collezione? Ci sono dei Funko Pop Che possono valere di meno Del prezzo a cui sono stati acquistati Da prezzo di listino Ma parliamo di Funko Pop Regular Sostanzialmente molti Come ti dicevo prima Che vengono ristampati In decine di migliaia di copie Nel tempo non acquisiranno mai un valore Anche perché Visto che ce ne sono troppi Vengono svenduti Quindi non salirà mai il prezzo Ci sono Funko oggi che escono E che come escono Dopo due mesi Salgono di 3x4x5 volte Il loro valore Anche di più Però sono dei singoli casi E molte volte Sono totalmente random Sì assolutamente Abbiamo fatto l'esempio con l'Eternals Scoop Game È tutta roba Che non si è venduta Prima quando è uscita Quando c'era anche l'hype Ma pure lì l'hype è relativo Perché la fanco Il pop lo fa uscire sei mesi Dopo la serie L'hype è già finito Per quel che mi riguarda Quindi ecco sì I pop spesso Tendono a scendere Io sconsiglio Di comprare un investimento Perché ti deve piacere Poi se il pezzo che ti piace Te lo vuoi provare a rivendere Perché pensi sia una buona cosa È un altro discorso Però io compro sempre Prima per me stesso Se la sentiresti di dare magari qualche consiglio A chi si vuole avvicinare a questo mondo Anche in ottica dell'investimento Allora se siete ricchi fatelo Se siete dei poveri non fatelo È un mondo costoso Dietro ci dispendi un fottio Una volta che inizi è una droga Non esci più Carissimi investitori Anche questo evento è finito Abbiamo capito che forse I Funko Pop Non sono proprio L'investimento ideale Però sicuramente Anche loro possono dare soddisfazioni Soprattutto se riusciamo a comprare Il Funko Pop giusto Piccola nota da aggiungere Ricordatevi sempre Che il mercato È fatto dalle persone Da domanda e offerta E in questo caso La domanda è rappresentata da nerd Che appunto vogliono comprarli Quindi Quando voi volete comprare Un Funko Pop Ragionate sempre Come ragionerebbe uno di loro Quindi capiate bene Qual è il Funko Pop Da comprare Perché secondo me Se uno riesce a fare questo Riesce a fare i soldi Anche con questo mercato Io spero che anche questo video Vi sia piaciuto Che lo abbiate trovato interessante Soprattutto mi piacerebbe Fare una serie Su tutti questi mercati Molto di nicchia Mercati dell'arte Collezionismo in generale Perché sono nicchie Che nessuno considera Però esistono anche quelle E si possono guadagnare bei soldi Quindi carissimi investitori Consigliatemi anche Nei commenti Quali altri mercati Trattare Ovviamente Mercati strani Mercati folli Lasciate un like Iscrivetevi al canale Lasciando la campanellina Ci vediamo nei commenti E in un prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.